E' finito il mio test drive, 119.2 km per Milano, 3,4 litri per 100 km, io che guido una Prius seconda generazione con lo stesso piede, sono riuscito a fare 10 km in più con un litro, è veramente incredibile. Senza parlare poi di tutti gli altri comfort che ha questa macchina e che le versioni precedenti hanno ma non in questa maniera, in questa forma, quindi promossa a 10 lode.